Che va al di là Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB domanda A quale tipo di logica ci volete condurre adesso? Guida psichica È una logica che va al di là di quella mentale perché risponde alla presenza in voi di un frammento di un piano di esistenza più sottile. Noi vorremmo incentivare alcune facoltà latenti nella vostra mente nella settima regione del corpo mentale nel quaternario superiore ossia vorremmo continuare almeno nei limiti del possibile il processo che avevamo iniziato l'attivazione della mente supernormale della cosiddetta supermente vorremmo fare di voi ciò che voi ritenete essere noi voi infatti ci vedete come degli esseri che vivono la realtà del sentire e noi vorremmo fare di voi degli esseri che la intuiscono vorremmo quindi continuare andare oltre farvi conoscere quanto sia preferibile la successione del sentire a quella dell'essere uomini quanto sia più in avanti l'uomo spirituale dell'uomo filosofico e non potrebbe essere diverso commento attenzione per favore la logica la settima regione del corpo mentale il quaternario superiore la mente supernormale la supermente l'intuizione del sentire la successione del sentire l'uomo filosofico l'uomo spirituale sono tutti stati di coscienza allora 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 allora